Cari amici del Centro Sportivo Italiano, del CSI, sono lieto di potervi mandare un messaggio in questo momento in cui siete alle prese con il rinnovo delle cariche, diciamo, di responsabilità, ma sapendo che in questo clima così condizionato un po' dalla pandemia, da quanto abbiamo vissuto e non so fino a quando lo vivremo, sentirsi uniti anche nella pratica dello sport, non solo del calcio, ma proprio dello sport in genere, è una cosa quanto mai positiva. Per cui io vi auguro, e me lo auguro di cuore, che possiate vivere questa esperienza proprio all'insegna della speranza, anche nel rinnovo delle cariche istituzionali, sociali, cioè di coloro che dovranno avere la responsabilità e il ruolo di animare questi momenti ricreativi e sportivi. Vi auguro di cuore ogni bene e soprattutto auguro, visto che la nostra diocesi è stata presente con un vicepresidente, di essere all'altezza di questa tradizione che la diocesi di Lecce conserva con onore e veramente, con tanti segni positivi di animazione delle parrocchie e non solo, quindi a livello ecclesiale, ma anche a livello civile. E questo ci fa onore, quindi andiamo avanti perché questo è il momento della creatività collaborativa all'insegna della speranza per superare le paure che forse consigliamo ancora. Avanti, con o senza maschera, ma soprattutto con tutte le attenzioni e le precauzioni, continuate a praticare sport perché fa bene al corpo e allo spirito. Buon lavoro.